Come nuova, Federico Lonardi aveva deciso di vendere la sua bicicletta. La mise su un sito, assieme a tre foto e una breve inserzione. Vendessi bici da uomo, come nuova, euro centodieci. Il prezzo gli parve giusto, specialmente se vi fosse stato bisogno di trattare. Vendo la mia bicicletta, disse alla moglie. Ah sì, rispose lei alzando lo sguardo dal piatto. Non le usiamo mai le biciclette, disse lui. Piuttosto che lasciarla in garage è meglio guadagnarci sopra qualcosa, non credi? E quanto pensi di ricavarci, continuò lei. Federico sbatté la forchetta sul tavolo. Dai sempre a fare domande tu, ma ti ricordi l'ultima volta che le abbiamo usate? Beh, io no. Lei abbassò lo sguardo. E credi di risolvere così i nostri problemi? Almeno io ci provo a risolvere qualcosa. Non lo vedi? disse lui. Lei si alzò e si piegò sopra il cestino dell'immondizia. Mentre grattava via gli avanzi di cibo, la divisa del centro commerciale le si tirò, mostrando un filo di cellulite lungo i suoi fianchi. Vado che faccio tardi al lavoro, disse lei aggiustandosi la gonna. Federico sentì il crepitio del piatto, mentre sua moglie lo premeva nel lavello, facendogli spazio tra le stoviglie sporche. Aspettava un acquirente nel cortile condominiale e indossava una tuta in poliestere, blu e gialla. Era un giovedì pomeriggio e tra i condomini filtrava una tenue luce grisa. Pensò che erano passati ormai sei mesi da quando l'avevano licenziato, o meglio, non gli avevano rinnovato il contratto di agente. Vendeva vernici per un'azienda nella periferia della città, a circa 15 chilometri da casa. Il titolare era andato in pensione e le figlie avevano pensato bene di cedere all'attività una multinazionale cinese. Una storia come tante, aveva pensato allora, ma adesso cominciava a preoccuparsi. Federico si grattò l'inguine con le mani nelle tasche. Da una finestra del terzo piano udì urlare un bambino e poi un altro. Una valedetti negri, pensò. Stanno sempre a urlare. Non è mica una giungla qui. Una macchina accostò vicino al marciapiede e ne scese un signore di mezza età, con la barba bianca. Salve, disse lui estraendo la mano dalla tasca. Salve, rispose quello, stringendola. Lei deve essere il signor Lonardi. Piacere, Enrico Tessari. Piacere. Spero abbia trovato facilmente la via. Tra questi palazzi si rischia di perdersi. È stato facile. La zona la conosco bene. Ci vivevo una volta. Chi è stato del quartiere non lo dimentica, disse lui. L'altro fece un cenno con il capo e sorrise. Vorrei vedere la bicicletta, se non le dispiace. Dal terzo piano si sentì un grido. I due uomini alzarono le teste e scorsero due bambini di colore che li salutavano. Poi li videro mostrare il dito medio e scappare in casa. Fanno sempre così, disse Federico mentre scendevano le scale. Si si abitua. Spinse la basculante del garage e prese la bicicletta. La portò fuori ed estrasse la cavalletta. Per poco non vi rimase attaccato con le ciabatte. Dopodiché si fece da parte e lasciò che l'acquirente la guardasse. L'uomo le girò attorno. Si fermò, si chinò. Si accarezzò la barba. Federico parlò soltanto per coprire quell'imbarazzante silenzio. Posso garantirle che è perfetta e che il suo dovere l'ha sempre fatto. Mi ha portato dappertutto. Il cambio è Shimano a 18 rapporti. Usata pochissimo. L'uomo si alzò e lo guardò. Signor Lonardi, posso dirle una cosa? Dica pure, fece lui. Lei deve sapere che io dico sempre la verità. Vede, io credo fermamente che ognuno di noi vuole sentire la verità, bella o brutta che sia. Alla fine ci piace sentire la verità. La vogliamo. Stette in silenzio e ricominciò. Vuole sapere la verità su questa bicicletta? Vuole sapere cosa ne penso della sua bicicletta? Federico non rispose, ma l'uomo si sentì comunque autorizzato a continuare. C'è della ruggine nei cerchi, disse l'uomo accarezzandosi la barba. Vede? Proprio qui, tra i raggi. E indicò la vuota anteriore. La ruggine poi si è formata qui, continuò mostrando una chiazza marrone sotto il sellino, e qui, indicando la corona dei rapporti posteriori. Non è niente di grave, disse Federico. Basta un po' di pasta abrasiva e va tutto via. Anche i freni sono consumati. Guardi qua. I pneumatici sono vecchi. Sotto si vede la camera d'aria, disse l'uomo. Federico stava per replicare quando un pallone colpì la sala cinesca di una rimessa vicino. Lo schianto lo fece trasalire. I due bambini di colore comparvero, correndo alle sue spalle. Ragazzi, potete smetterla con questo chiasso, urlò Federico ancora scosso. Sono le tre e non si gioca a pallone. I due bambini urlarono qualcosa e scomparvero su per lo scivolo. Si voltò verso l'acquirente e lo sorprese che stava sbirciando dentro il suo garage. Che vuole questo qua, pensò, se non gli va bene la bicicletta. Che si tolga dalle palle. Intanto sentì i ragazzi schiamazzare nel giardino condominiale. Aspettate che se ne vada questo qui e vi sistemo io, maledette scimmie, pensò. Vivaci questi ragazzi, disse l'uomo, rivolgendosi a lui con un sorriso complice. Molto, disse lui, distogliendo lo sguardo. Ci vivevo anch'io con una famiglia di extracomunitari sopra la testa, lo sa? Proprio come lei, disse l'uomo. Stavano lontano da qui, in viatezza, nei condomini verdi. La vuole sapere una cosa? Lo sa cosa non sopportavo di quella gente? Io non sopportavo l'odore del loro cibo. Non è come il profumo della nostra cucina. Il loro cibo sa un odore che si attacca dappertutto. Il loro cibo puzza come loro e alzò il naso verso il cielo. Già, l'odore, ripete Federico. E poi com'è andata a finire? Li ha spediti al loro paese? No, magari lo potessimo fare. Ho semplicemente cambiato casa. Semplicemente, disse il vecchio. Mi mando un gesto con la mano. Ormai non siamo più padroni nemmeno a casa nostra. Figuriamoci fuori, disse con una risata nervosa. La battuta non piacque a Federico e si affrettò a rimettere la bicicletta al suo posto. Mi spiace che la bicicletta non le piaccia. Signor Lonardi, la verità è che questa bicicletta non vale i soldi che lei chiede, disse l'uomo. Ma stavo guardando quella laggiù. È carina. È in vendita anche quella. E indicò una bicicletta rossa parcheggiata nel garage. A dire il vero, no. Quella è la bicicletta di mia moglie, rispose Federico appoggiandosi al manubrio. L'uomo lo guardò e si massaggiò la barba. A dire il vero, quella bicicletta li vale tutti quei soldi. Posso darle un'occhiata? Certo, disse lui, notando per la prima volta il colore azzurro degli occhi di quell'uomo. Faccia pure. Mentre l'acquirente entrava nel suo garage e armeggiava con i freni e i cambi della bicicletta di sua moglie, si accorse di quanto gli dava fastidio vederlo lì e che avrebbe fatto qualsiasi cosa purché si levasse di torno. Quando l'uomo salì in macchina, lui non lo salutò. Rimase nel mezzo del cortile, grattandosi l'inguine dalle tasche della tuta. Non si mosse neppure quando sentì i due ragazzi correre su e giù per la tromba delle scale e sbattere la porta d'ingresso. Rifletté su cosa avrebbe detto a sua moglie. Le avrebbe detto che stava rimettendo a posto le cose, o almeno che ci stava provando. Ma non le avrebbe mai confessato che ricordava l'ultima volta che erano andati insieme a fare un giro in bicicletta. Perché era sempre un pomeriggio di sole, di tanti anni fa. E allora le cose erano diverse.